Tommaso buongiorno ciao bello dove ti trovi adesso ci troviamo a roma agli studi di media set mi hanno convocato qua non so che cosa vogliono da me qualcosa la vorranno secondo me vorranno vorranno il mio corpo il tuo corpo vorranno sicuramente forse la tua simpatia tommaso non lo so allora mi hanno detto che mi vogliono dare 100 mila euro faccio il sacrificio un paio di giorni ma gratis se vedi darmi le regali la cerchiamo ti ha chiamato direttamente paolo voi siete amici siamo amici della vita andavate a scuola insieme a scuola insieme perché più grande di me però ci siamo visti in parecchio caccio quindi ti senti pronto a fare questa puntata di avanti un altro vediamo questo questa puntata come va un altro ma perché adesso la macchina di muerto è in rete però voglio dire la macchina di muerto sta dietro non vorrei che passi avanti non lo faccio passare avanti perché devo stare sempre io avanti è normale ho capito ho capito va bene Tommaso la cultura generale come stai messo perché ha davanti un altro ci vuole un po' di cultura generale lo sai vabbè roba di salsiccia e latte matese e provolone non ci sono problemi siamo fatti va bene Tommaso arrivederci ciao ciao buona giornata saluti i fan le tue fan le donne saluto tutte le mie donne le mie fans e tutti gli amici di facebook un bacio che mi seguono un bacio ciao